Avere un giradischi è una cosa facile o difficile? Cosa serve per avere un giradischi? Beh ragazzi, innanzitutto vi tranquillizzo, è una cosa molto facile, la scelta è vasta, e in questo video che suddivideremo in quattro parti in fasce di prezzo e lasciamo per la fine l'usato, vi spiego quali sono le alternative che potete valutare nell'acquisto di un giradischi. Premetto che per avere un giradischi è importante e mandatorio avere un amplificatore e dei diffusori. Partiamo subito con la prima fascia di prezzo, che è una fascia di prodotti nuovi, che va da 300 a più o meno 650 euro. Le alternative in questo caso sono quattro, poi facciamo una menzione speciale. Abbiamo l'audiotecnica come giradischi di partenza, questo è l'LP3, un giradischi completamente automatico, e vedrete che questa è una cosa più unica che rara, perché solo lui ha l'automatismo, anche andando in fasce di prezzo più alte. È un giradischi a cinghia, telaio rigido, start e stop lo troviamo qui, quindi noi diamo start, il braccio va sulla prima traccia del brano, arrivato alla fine si alza, torna indietro, si spegne. È un giradischi molto interessante di audiotecnica brand giapponese, 290 euro. La testina è la testina rossa di audiotecnica con lo shell intercambiabile. Prima alternativa che vi posso dare. Sempre dello stesso marchio abbiamo l'audiotecnica, la TLP120X USB, un nome lunghissimo per un giradischi che, in tanti avranno riconosciuto, riprende stilisticamente e funzionalmente i Technics SL12, che dopo andremo a vedere. Questo potremmo definirlo un clone, un clone fatto molto bene se consideriamo che il prezzo è 330 euro. Giradischi a telaio rigido, trazione diretta, in questo caso abbiamo il pitch control che ci regola la velocità dei giri, anche in questo caso shell intercambiabile con la testina, la T95 di audiotecnica, color verde, che è una bella testina, già per iniziare andiamo più che bene. Giradischi molto facile dall'utilizzo, completamente manuale, quindi arriviamo in fondo, dobbiamo ricordarci di alzare il braccio e riportarlo in posizione. Molto molto bello. Andando invece in giradischi un pochino più minimal, questo è il best seller forse dell'ultimo anno, è il Project T1, è rimasto solamente in finitura noce a magazzino, quindi questo è quello che dobbiamo far vedere, volendo arriverà e tornerà disponibile anche in finitura nera lucida, ma ancora non sappiamo quando. Questo è un bellissimo giradischi con il braccio in alluminio, testina ortofon base, piatto in vetro, base in MDF, giradischi a cinghia, anche questo su telaio rigido. Vi faccio vedere il piatto in vetro che è una chicca molto bella, dopo ovviamente è disponibile in confezione anche il suo matto e il suo feltro da mettere sopra, abbiamo la cinghia con le due pulegge 33-45 giri, in questo caso il cambio lo dobbiamo andare a fare a mano. Anche questo è un giradischi completamente manuale, in vendita a 330 euro. Salendo un po' di gamma si inizia a fronteggiare il marchio Torrens, uno dei marchi più famosi, questo è il TT202, bellissimo giradischi con la K color grigio fumè, 630 euro. Questo è un giradischi sempre a telaio rigido, sempre a cinghia, testina la T95 dell'audiotecnica e qui devo dire che c'è un pochino più di sostanza, soprattutto nella base, che è una base un pochino più cicciona, un pochino più stabile, un pochino più bella. Abbiamo un giradischi che viene 630 euro, anche questo disponibile in due colorazioni, noce o nero lucido. Ma se abbiamo un impianto un pochino più bellino e abbiamo un po' più di budget, ovviamente ci sono anche delle alternative un pochino più costose, con giradischi sicuramente più strutturati. Partiamo subito da un prodotto che tutti riconoscerete, questo è il Technics SL1002. Esiste in varie colorazioni, sia grigio che nero, questa è un'edizione limitata che è già stata venduta, ma per farvi dare l'idea questo va benissimo perché è lo stesso giradischi che è in produzione ancora adesso. Giradischi col braccio, con la canna in alluminio, pitch control, sicuramente un giradischi, un carro armato, solido, bello, lucine, strobo, questo ve lo ricordate tutti, sicuramente è molto bello. L'SL1002 MK7, che è il modello che abbiamo a disposizione, viene 970 euro, senza testina e senza cerniere, quindi il coperchio lo dovete appoggiare. Se volete invece testina e cerniere, c'è il fratello versione home, questo è l'SL1005, in vendita a 1150 euro. Questa è una caratteristica molto interessante perché ha l'autolift, quindi arrivati a fine disco, sente l'ultima traccia, si alza, non si ferma ma si alza, che è una cosa molto comoda. Questo è lo stesso tipo di giradischi, senza però tutti gli amenicoli, quindi strobo, pitch control, luci, è una versione proprio casalinga, però condivide motore e caratteristiche tecniche. E questo ha, oltre ad avere le cerniere, la testina 2M Red di Ortofon, 1150 euro. Ovviamente stiamo parlando di tutti i prodotti nuovi sigillati, disponibili anche per la spedizione in tutta Italia, quindi se volete acquistare ci potete mandare una mail a info-audiocostruzioni.com e noi vi diamo tutte le informazioni del caso per acquistare questi prodotti assicurati e garantiti da noi. Questo è il Clare Audio Concept, qui saliamo un pochino di prezzo, giradischi tedesco, super super interessante, qui non siamo più nella trazione diretta ma siamo in trazione a cinghia, questa è la versione completamente nera. Particolariato di questo giradischi che viene 1650 euro è il braccio flottante magnetico, quindi il braccio non appoggia ma è sospeso tra due magneti. Testina Concept V2 che è una testina fatta da Clare Audio, questo è un giradischi strepitoso. Salendo ancora di gamma, qui siamo a 1950 euro, incontriamo il Torrens TD 1500, l'ultimissimo di casa Torrens. Questo è bellissimo, è flottante su tre molle, così come lo erano il 160 e il TD 150 che questo giradischi ne è le rede. Abbiamo una testina con shell intercambiabile 2M Bronze, considerate che la testina viene 400 euro venduta al dettaglio e ha un design che riprende proprio i Torrens. TD 150 il braccio, che è il braccio discendente dal braccio top di gamma che mettono nel TD 1600, cappa grigia fumè per 1950 euro, questo è un giradiscone. Menzione speciale in questa categoria che non abbiamo qui in negozio, lo possiamo fare per il Project X2. Giradischi molto interessante, con piatto in acrilico, braccio in carbonio, testina 2M Silver, è un best seller purtroppo, non l'abbiamo disponibile al momento in negozio, ma disponibile per l'acquisto, ed è un giradischi che va intorno ai 1200 euro. Se abbiamo degli impianti di altissimo livello, rivelatori, poi ovviamente ci sarebbe sempre di più in questo mondo, ma diciamo che siamo a un livello molto alto, possiamo proporvi un giradischi come può essere l'MT2 della Macintosh, giradischi con chiara matrice Clare Audio, ma fatto su specifiche di Macintosh, bellissimo, questo si illumina, è un super super giradischi con una testina MC, che è la Bluepoint numero 2 ad alta uscita di Sumiko, questo qui è un modello usato a 3900 euro, però questo davvero è un giradischi che suona. Telaio rigido, struttura sandwich, base in cristallo, questo davvero è un bellissimo giradischi. Interessantissimo, è il top di gamma, questo ha poco meno di un anno come modello, è il TD 1600 della Torrens, completamente manuale, abbiamo un piatto e contropiatto completamente torniti dal pieno in alluminio, sono bellissimi, braccio come vi dicevo, il top di gamma è prodotto adesso da Torrens, alimentazione separata, questo che è un modello usato che io sono sicuro che andrà via in un secondo, siamo a 1850 euro, sempre disponibile, prodotto nuovo in due colorazioni, questa che è la più bella, color noce o nero lucido, a 2550 euro. Se vogliamo esagerare ci sono, qui ve lo faccio vedere usato perché nuovo da esposizione non lo abbiamo, ci sono sempre i Mitchell Girodeck, con personalizzazione di braccio, in questo caso abbiamo il Technoarm, si potrebbe montare uno smè, si possono montare i bracci della rega, insomma ci si può personalizzare, giocare come uno vuole, siamo intorno ai 4000 euro, disponibile ovviamente tutta la gamma, con tutte le personalizzazioni, e per questo ci dovete mandare una mail. Altra menzione che l'abbiamo proprio appena venduto, è lo Scout 21 della VPI, che è un giardischi bellissimo americano, e siamo intorno ai 3000 euro, un giardischi davvero bellissimo. Ora passiamo a tutte le proposte che possiamo darvi nell'usato. Dopo la presentazione di Filippo del materiale nuovo, vi faccio vedere un po' di usato. Allora, partiamo subito con questo project, The Boot Carbon Fono, questo c'è anche l'uscita Fono, l'ultima versione uscita, quindi ancora in produzione, con il braccetto in carbonio, e la sua testina Ortofon, è praticamente perfetto, a 350 euro. Andiamo qua un pochino più sotto, Rega P1, anche questo è un must, tenuto veramente molto molto bene, con la sua testina Rega Carbon, a 250 euro. Poi, andiamo qua di fianco, questo è bellissimo, un JVC, è il QL7, guardate, è stupendo, è il modello nero laccato, io l'ho anche nella mia collezione, però non è nero laccato, è nero satinato, quindi mi fa anche un po' di voglia, questo giradischi, 600 euro. Andiamo un pochino più sotto, Trubador, giradischi massiccio, veramente un carro armato, molto molto bello, 780 euro, anche lì abbastanza trattabili. Andiamo ancora di fianco, un bel giradischi della Sansui, a 450 euro, anche qui leggermente trattabili, direi che a 400 ve lo riesco a dare, è anche molto interessante, questo Torrens TD145, con la K e la testina, quello lì è un flottante, non si sbaglia mai, 290 euro. Come non si sbaglia mai, con questo project qua, è il Genie 1.3, e sempre dovrebbe avere il suo imballo, a 350 euro. Andiamo un pochino più su, questo qua è sempre, un debut carbon, versione, prima che uscisse il braccio in carbonio, questo è il braccio in alluminio, sempre testina ortofon, tenuto veramente molto bene, anche questo c'è l'uscita USB, per poter riversare i nostri vinili, sul computer, su chiavette e quant'altro, 300 euro. Dual, questo è praticamente un Torrens, perché la Torrens li faceva in simultanea con la Dual, molto molto carino, finitura in legno, in ciliegio, mi pare 250 euro, super scontato. Andiamo qua di fianco, ecco, questo è molto interessante, è un Torrens 166, a cui è stato messo il brazzo, il Regal RB300, è la testina Stanton 681, RIPLA E, il tutto a 320 euro, secondo me qui è molto interessante. Invece, chi vuole un usato, questo Torrens è automatico, completamente automatico, 280 euro. Era, giradischi, un po' vintage, no? A 140 euro, potrebbe essere un buonissimo inizio, per chi, diciamo, è alla partenza. Poi, poi, andiamo da questa parte, questo è stupendo, è l'RPM 9, della Project, con, tutto in acrilico, la versione acrilico, guardate com'è, com'è bello, ha il suo braccio, in carbonio, una super testina, perché è un ortofon, 2M blu, che solo lei costa, 190, 200 euro, la K, l'abbiamo messo fuori, a 1100 euro, questo è, un intramontabile, direi. Come è intramontabile? Torrens, TD 124, abbiamo fatto noi, la base, o meglio, il nostro amico Ermanno, ha fatto la base, noi l'abbiamo portata in carrozzeria, e l'abbiamo fatta, laccare, ok, funziona benissimo, il braccio è il suo originale, monta anche una testina, 2300 euro. Mitchell Giro, il giro deck, nero, ok, con il braccio, Mywire, e la testina, M44G, a 3150, è vero che ho, una trattativa, per questo prodotto qua. Torrens, allora, abbiamo un TD 126, col braccio originale, e la sua K, a toni 700 euro, anche qui, trattabili, e abbiamo un sempre un 126 MK3, con il braccio, smè, quello, il titanium, no, testina audio tecnica, anche qua, 850 euro, trattabili. Torrens TD 150, gli è stato fatto la, come posso dire, la base, ok, anche questo l'ho sistemato io, 230 euro. Come è interessante, questo Torrens, sempre 150, questa base, l'abbiamo fatta noi, ok, è in, Venge, 250 euro. Mission, giradischi interessante, con testina audio tecnica nuova, 290 euro. Rega P3, con testina audio tecnica, 400 euro. Andiamo ancora di fianco, Technics SL 3110, usato con imballo e testina, incredibile l'imballo che ci sia, 240 euro. Ecco, direi che per oggi abbiamo finito il discorso usato, sì, non abbiamo altro, come sempre, comunque qui è un porto di mare, arriva sempre roba nuova.